Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Qua chi è Pixel Art Oggi siamo qui perché appunto Dovremmo scappare da questo ragazzo mangione Se il video vi piace Se vi sarà piaciuto forse Mettete un like E se volete iscrivervi C'è il link giù in descrizione E attivate le campanelline per non perdervi nulla E ora iniziamo Ok qua c'è una Coca Cola Una bibita Lui quante cose che sta mangiando insieme Una pizza L'hot dog E l'hamburger E due pacchetti di patatini Questo escape room Mi farà venire molta fame Allora iniziamo Ma anche la canzone è bella La canzone la trovate già nel Del gioco Ok salto E su Ok E salto Anche questo qua Ma la faccio di Roblox Che bella Quella faccia la vorrei anch'io Già il primo Già il primo Già il primo Proprio già il primo Devo cadere E fanno male Ok 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 Salviamoci ok no 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 sono per morire sono per morire giù sono per morire giù no non voglio morire non voglio fare tutto ah no sono caduto soltanto di faccia do you think you can get away I'm running outside I'm gonna eat you think you can get away by running ma che è qua tipo è come il pavimento è lava ma il pavimento è acqua quindi bisogna cadere dentro ok andiamo piano piano ci vediamo vedo già qualcosa di là vedo degli hamburger mi viene già voglia di mangiare ok andiamo avanti mi sa ecco lo sapevo gli hamburger qua bisogna saltare sugli hamburger un altro salto e questo questo livello è veramente facile ok saldiamoci poi bisogna saltare sulle patatine fatte fatte ma sono un guai quelle del macadonald anche quelle del mac sono così ok ok perché quando basta si ok però bisogna evitare questi cosa ok ok Qua bisogna evitare le asce Eh, c'è un trucco Cioè andare qua Invece sono i bastoncini Sono... Qua Nooo Sì Devo risparmi Ok, andiamo dentro qua Che bello Vediamo qualcosa di bello, eh Vediamo una cosa che salva Che non voleva salvare Ecco Oh nooo Ho 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 Dopo quando avrò finito questo livello Questa stage Quindi a dopo Rieccomi qua Ho fatto la stage Deci No, nove, nove, cosa cinque Eh, e ora La squadra La squadra degli zombie Scrivete nei commenti se l'avete visto No, nove, nove, diese Vediamo i schumber прек descone Malo, malo ok sono fatta uffii 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 dai sbrigati sto quasi per sketchare la skip stage però devo farci devo farci ok sono fatta e ora qua dove si salta e ora qua cosa si fa adesso? uffii 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 ragazzi ci vediamo dopo ragazzi ho capito dove si andava? si andava qua sopra ecco vedete là che ci sono tutte tipo cosetto lì ok piano piano perché non voglio ricadere di farlo tutto dopo dieci anni dieci mesi decenni ci ho messo qualche oretta una oretta minuti minuti secondi qualche qualcosa e e finalmente sono fatta questa è come prima bisogna non bisogna prendere la lava ok ok poi bisogna andare sui gradini sui gradini ma sono io non voglio cadere perché sennò non sono le vertigini guardate quanto siamo in alto siiii qua bisogna evitare queste cose qui e ora lì ok ok basta questa canzone la so memoria eh dopo un po' stress saltano su queste palline c'è un palline un pallione ok dai l'ultima ancora inizia questa canzone non finirà più però è comunque bella guardate ragazzi siamo in un super in alto aiuto bisogna salire su questa scala e vediamo e vediamo che cosa no non dirmi che siamo in quel posto là nella bocca perché siamo nella bocca non si perché siamo nella bocca ci sono tutti sicuramente si vedrà tutto il cibo io non voglio vedere neanche la griglia eh perché non la voglio non la voglio la griglia ok va bene va bene va bene va bene si va di là ok ma ma c'è comunque c'è comunque l'acqua sotto ma c'è più l'acqua c'è l'acqua ok ok non voglio cadere grazie ok qua mi scusa io ho detto che non volevo la griglia e perché è comparsa prima non c'era spero di farcela per favore dai 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 sì sì ce l'ho fatta ce l'avevo non ce l'avevo mai fatta sì che bello ok ok bello poi bisogna saltare sulle paperelle che carini paperelle da bagno quasi quasi li butterai in questa vasca e mi farei il bagno solo che non c'è lo shampoo come va a giovarmelo poi i capelli così lunghi dopo ci metterò un'ora devo sciugarlo dai ma che succede ma che strano sono caduto dentro l'acqua magna è scritto strano qua cos'è? il dentifricio da qua sembra il dentifricio ma anche il colore del no no e per qua però questo dura poco eh per fortuna cosa sta in equilibrio eh non è che non sono arrivati noi perchè sennò devo spostarmi perchè dovete sapere che loro fanno casino quando arrivano io mio papà fa rumore con i piatti mia madre fa rumore anche lei non fa vado avanti a parlare vado avanti a parlare vado avanti a parlare oh no questi piedi c'è un trucco bisogna leggere l'acqua proviamo ancora nooo uffi forse quello rosso troviamo quello rosso forse forse quello giallo non è rosso eh mi sa che ora sarà quello giallo dai forse quello giallo è quello blu oppure stai ancora quello rosso allora è rosso e forse blu forse forse blu forse allora facciamo rosso andiamo su blu ok rosso e blu perchè mi blocco? ok cos'è questo? cos'è questo? nooo uffi dai siamo alla ventissaia no quanto è stage vai per farmi non cadere per favore per favore per favore per favore per favore fai vicino un po' ti salto qua facciamo che è facile eh che belli i colori dell'arcobaleno cos'è che sento? cosa che sento? la cartigenica ahahah ma come è disegnata bene è disegnata benissimo come? beh sono più furbo io perchè vado intorno ahhh ahhh ma ho messo che intorno mi sono andato si mi sono andato ma questo è impossibile e non può andare ma questo è impossibile si ce l'ho fatta si ce l'ho fatta si ce l'ho fatta che bello no io non voglio cadere ok mi salvo basta questi messaggi non paga niente wow che belli palline anzi pallone sono enormi sono anche più grande tre no allora io mi butto giù visto che mi sono salvato mi sono salvato quindi quindi sono alla stage 29 che bello ancora questi mamma mia sono seduta troppo mi si è addormentato il piede no you're gonna get away get off of my soda machines you don't get no no you're going to get away cioè off off ma che pelle ma sta ancora mangiando la ho visto che stava mangiando queste sono le macchinette delle bibite calde tipo te che tisana ho un brutto presentimento guardate un po' la qua c'è una persona e mi sa che entreremo nella sua bocca come sempre di solito nell'escape room bisogna sempre entrare dentro le dentro sempre la bocca dentro il corpo e poi c'è sempre quella parte la non vorrei mai nominare questa cosa i soldi non sono i soldi questi dai dai non voglio cadere ok mi devo fare una promessa non devo più cadere ok ok ecco lo sapevo mi sono fatto la promessa e appena ultimo sono caduto ok lo facciamo ok ora non mi arrendo più perchè sono alla 33 alla 33esima 33esima e non vorrei mai arrendermi anche se anche se anche se ora di mangiare non mi interessa ma ma che ma perchè beh io passo lontro sì ma non è colpa mia se mi fa bloccare mi è buggato il gioco sì proprio ci stiamo proprio quasi fin ma guardate mi uccide qua perchè non si non si molto pizza ecco sufi questa stage la odio la odio veramente la odio da morire no dai ah ragazzi